In fiamma la polemica sul ritorno a scuola, fra chi vuole la DAD, chi vuole il ritorno fra i banchi e chi è preoccupato in generale per l'aumento dei contagi. Come è andato il rientro fra i banchi? Quali sono le criticità? Il rientro tra i banchi è stato un rientro con diverse criticità. In primis la connessione. La fibra non ha retto la connessione contemporaneamente con tutte le classi, ma questa è una problematica che accomuna un po' tutte le scuole del territorio, ma credo proprio a livello nazionale. Le criticità sono anche il rapporto all'aumento dei contagi. A livello scolastico qual è il dato dei positivi? Ce ne sono stati? Sessi quanti? C'è stato un unico caso di un'alunna di quinta che è risultata positiva e c'è stato un contatto nell'ambito delle 48 ore in classe. E quindi abbiamo messo, così come prevede il protocollo, la classe in quarantena, in isolamento fiduciario, con i docenti che nell'ultime 48 ore hanno avuto contatto con l'alunna. Il famoso contatto stretto detto in termini del protocollo. Ci sono stati riferiti di alunni che sono risultati positivi al tampone, ma questi alunni in questo periodo non hanno proprio frequentato la scuola, o meglio, sono trascorsi diversi giorni, quindi oltre le 48 ore. Pertanto dal protocollo non è previsto nessuna messa in quarantena né della classe né dei docenti di questi alunni. Ovviamente c'è preoccupazione fra le famiglie per questo ritorno in classe. Quali sono le modalità con cui possono tutelarsi? Possono scegliere la DAD invece della didattica in presenza? La normativa prevede che per gli alunni fragili, cosiddetti fragili, o conviventi con familiari fragili, possono seguire le lezioni in didattica a distanza, ovviamente con l'esibizione di un certificato medico. La scelta di mandare a tutti gli alunni, tutte le classi in DAD che non appartengono a questa categoria fragili, non la può fare il dirigente scolastico. Invece il singolo alunno, dicevamo, può richiederlo, se è alunno fragile o convivente con persone fragili, quali sono le modalità per l'istituto? Noi abbiamo pubblicato una circolare, proprio i primi giorni di febbraio, con un'allegata modulistica. Non abbiamo dato una scadenza specifica, perché sappiamo che si possono verificare anche in corso d'opera delle situazioni, poiché possono avvalersi la didattica a distanza anche gli alunni che sono in quarantena o in isolamento fiduciario, e quindi con una certificazione medica possono in qualunque momento presentare la richiesta. Quali sono le misure che si stanno adottando nel senso di sanificazioni, controlli, lavaggio delle mani e misurazione della temperatura? All'ingresso, come ha potuto notare anche lei, ci sono quattro termoscanner che misurano la temperatura, perché sono quattro gli ingressi differenziati per questo istituto. I ragazzi rispettano benissimo tutto il protocollo per la sicurezza che abbiamo attivato all'interno della scuola e ovviamente di tutte le scuole. La sanificazione ordinaria, quella effettuata dai collaboratori scolastici, viene fatta così come prevede il protocollo del Comitato Tecnico Scientifico, nel cambio dell'ora si sanifica la postazione ovviamente del docente, perché è quello che cambia di ora in ora, e poi viene fatta a conclusione della giornata così come prevede il protocollo. Tra l'altro l'utilizzo di detergente ad alta azione battericida dovrebbe rassenerare, rassicurare che ci sono tutti i requisiti per una scuola sicura. Un appello ai genitori, i genitori preoccupati e agli studenti. La scuola è un luogo sicuro, sicurissimo. Il problema che si può verificare è dal tratto casa-scuola. Questo tratto deve essere fatto rispettando anche in questo tragitto tutte le misure di sicurezza. È naturale che i ragazzi fuori dalla scuola si incontrano e quel distanziamento fisico che rispettano all'interno della scuola potrebbero non rispettarlo. E questo comporta appunto il pericolo del contagio. Qui i ragazzi fin quando sono nella scuola sono sempre al sicuro perché posso garantire a tutti che i ragazzi e i docenti rispettano tutte le norme previste dal protocollo.